Collega Bagnai. Grazie Presidente. Ringrazio anche il Dottor Cartabellotta per la sua disponibilità a partecipare ai lavori di questa commissione. Io avrei tre punti specifici di interesse, partendo da osservazioni che sono state fatte oggi dal Dottor Cartabellotta e che sono già anche state fatte dal Presidente della Società Italiana di Medicina Generale. Come premessa ricorderei che al tempo della pubblicazione del Siderius Nuncius la tesi tolemaica era confermata da una istituzione particolarmente prestigiosa e resiliente che era la Santa Romana Chiesa che tuttora esiste, retto all'usura del tempo. Quindi starei un pochino attento a, come dire, lasciar supporre che si possa sostenere una tesi scientifica quale che ne sia lo status. La mia domanda verte sullo status, sulla base del principio di autorità. Questo ci riporterebbe a prima del Medioevo. Mi interessa, perché è stato sollevato anche in audizioni precedenti, il tema che ha evidenziato il Dottor Cartabellotta, cioè il fatto che, come per certi versi è anche intuibile, nella urgenza dell'esplosione della crisi siano stati allentati certi criteri di produzione di risultati scientifici. Mi riferisco, per esempio, al fatto che era già stato menzionato in questa commissione che erano stati pubblicati risultati non soggetti a revisione paritaria, perché la revisione paritaria richiede del tempo. In generale, poi, in ambito medico, si deve supporre che qualsiasi ricerca, diciamo, quasi tutte, insomma, per esempio quelle sull'efficacia di un farmaco, voglio dire, prendano del tempo. Allora mi piacerebbe che il Dottor Cartabellotta chiarisse meglio la distinzione fra pubblicazione ed evidenza e che cosa, secondo lui, la politica dovrebbe fare con le pubblicazioni o con le evidenze, perché non mi è molto chiaro, e lo dico proprio genuinamente, da docente che ha scritto lavori sottoposti a revisione paritetica e che ha fatto la revisione paritetica di lavori scritti da altri. Grazie. Poi ho altri due punti ancora più sintetici. Vuole finire o rispondo a questo? No, le rispondo molto semplicemente. Allora, quello che è successo durante la pandemia è la disponibilità da parte dei ricercatori di tutto il mondo di un'enorme quantità di dati in poco tempo. Allora, questo ovviamente che cosa ha fomentato? Quello che è il desiderio di tutti i ricercatori è quello di fare tante pubblicazioni, perché la maggior parte dei sistemi praticamente premianti a livello internazionale guardano più alla quantità che non alla qualità delle pubblicazioni scientifiche. E quindi molti ricercatori hanno pubblicato tanti studi, spesso poche casistiche, tre casi, quattro casi, case report, quindi singoli casi, senza impegnarsi a raccogliere casistiche molto importanti. Sono delle mappe molto interessanti raccolte dall'NIH che fanno vedere come la quantità principale di pubblicazioni scientifiche è stata fatta semplicemente da cosiddetti studi descrittivi, quindi casistiche individuali, mentre c'erano poche sperimentazioni cliniche e soprattutto c'erano pochi studi osservazionali di cohort. Rispetto alla sua domanda specifica, anzi alla doppia domanda, anche se un articolo viene pubblicato su una rivista scientifica, anche se ha elevato impatto, non è detto che sia evidenza, nel senso di evidenza scientifica, perché può essere non valido, perché magari i revisori non si sono accorti di errori metodologici, ma soprattutto, molto più frequentemente, può essere clinicamente irrilevante, cioè nel senso che documenta un beneficio marginale, piuttosto che un'ampio margine di incertezza, oppure può essere inapplicabile, perché è condotto in contesti che sono troppo diversi da quelli poi dove dovrebbe essere applicato. Allora, questo triplice step di valutazione, validità interna, rilevanza clinica e applicabilità, è quel triplice filtro che fa passare dalla pubblicazione scientifica all'evidence, che poi viene selezionata da le cosiddette pubblicazioni secondarie, che sono le revisioni sistematiche e poi le linee guida. È evidente che se quanto meno rigoroso è il metodo dichiarato, quanto più è probabile che ci possono essere anche tra linee guida diverse e raccomandazioni diverse, perché il livello di interpretazione dipende anche dal tipo di studio che ho selezionato. Lei tenga conto che oggi in medicina abbiamo circa 2 milioni e mezzo di riviste, che ogni anno pubblicano circa 30 milioni di articoli, quindi la possibilità di aggiornamento professionale, anche rispetto ad altre discipline, è estremamente limitata anche perché si occupa di una microspecialità. Durante il periodo del Covid, come dicevo poco fa, è esploso il numero di pubblicazioni anche grazie a questi archivi open, dove si poteva pubblicare ancora prima della revisione tra pari, che a volte hanno portato anche riviste prestigiosi, cito l'Anset, cito il New England, cito l'Anset of International Medicine, che hanno esercitato la cosiddetta azione della ritrattazione, perché dopo la pubblicazione si sono resi conto di aver pubblicato articoli che in realtà avevano dei bias, delle distorsioni, delle falle clamorose. Quindi un po' tutto il sistema di produzione della scienza è sostanzialmente andato in tilt durante il periodo della pandemia, in parte per le ragioni che ho sposte e per tante altre che ovviamente richiederebbero un'intera sessione. Che cosa potrebbe fare la politica? A mio avviso finanziare ricerca indipendente, perché questo è un grande tallone da Chile, ovvio che la mia risposta esula da quello che è l'obiettivo e la Commissione, però noi siamo tra i vari paesi, diciamo, penso agli 7 piuttosto che ai paesi europei, uno dei paesi che ha la spesa per ricerca pubblica sanitaria più bassa in assoluto. Ed è evidente che quando noi deleghiamo la produzione della ricerca all'esterno, dobbiamo prenderci quello che gli altri producono. Noi abbiamo prodotto poca ricerca pubblica. Grazie. Prego, collega. Sì, scusi, sì, no, mi interessa perché c'è uno snodo interessante, sostanzialmente il dottore ci ha detto, mi perdoni se provo a reinterpretare le sue parole, che, diciamo così, i risultati scientifici utilizzabili da un decisore sono le evidenze che sono un sottoinsieme delle pubblicazioni scientifiche e che quindi fra la pubblicazione scientifica e l'evidenza c'è un filtro che è in fatto di tre passi che lei ha anche enumerato e che poi mi recupererò nel verbale e la domanda è ma questi tre passi chi li gestisce? Punto interrogativo. E sa perché? Perché io ricordo bene i casi di Bias, ad esempio, fu proprio Lancet, se non ricordo male, a giugno 2020 a ritirare un articolo che sosteneva l'inefficacia dell'idrossiclorochina, che è una tesi che lei ci ha anche prima sostenuto, però Lancet prima era con lei, poi dopo non è più stata con lei, ma questo ci se ne può fare una ragione, diciamo i passi si aggiornano. Mentre la comunità accademica, con tutti i suoi difetti che conosco perché ne faccio parte, si sa però che cos'è, chi sono quelli che esercitano questo filtro che ci fa passare da una pubblicazione, cioè da un risultato riconosciuto come scientifico dalla comunità scientifica a una evidenza, cioè da un risultato che secondo lei dovrebbe essere ritenuto scientifico dalla comunità politica. Chi gestisce questo processo? Questa domanda ci interessa? Assolutamente, le rispondo. Negli anni si sono, diciamo, una volta standardizzati i metodi, sono state, diciamo, create delle organizzazioni internazionali, una delle più note è il GRADE, il metodo GRADE è quello che viene utilizzato in tutto il mondo proprio per effettuare questo criterio di ricerca, selezione e sintesi delle evidenze scientifiche ed è quello a cui di fatto aderiscono sostanzialmente tutte le più prestigiose istituzioni internazionali, sia governativa, sia società scientifiche, dichiarando esplicitamente il metodo. Quindi non è tanto chi lo fa, ma è come lo fa, è dichiarando esplicitamente il metodo in maniera tale da renderlo riproducibile. Il metodo GRADE di fatto, come dicevo, è riconosciuto in tutto il mondo come il metodo più affidabile per la selezione e sintesi delle evidenze scientifiche ed è usato dalle principali istituzioni, sia governative sia società scientifiche. C'è un sito GRADE Collaboration, adesso non me lo ricordo, ma se lo cerca lo troverà nei dettagli. Questo permette anche di mappare con delle specifiche codifiche numeriche la qualità e quantità delle evidenze, perché a volte ci sono pochi studi che danno già dei risultati importanti perché hanno arruolato un grande numero di pazienti, a volte le evidenze sono molto più frammentate ed è quando magari in una linea guida si legge che non ci sono evidenze per raccomandare a favore o contro un determinato trattamento. E quello è un'indicazione anche per la politica per finanziare ricerca e per rispondere a quelle domande. Sono le cosiddette GRADE ZONE, le aree grigie della ricerca su cui anche le istituzioni pubbliche dovrebbero finanziare col denaro pubblico ricerca per poter rispondere a quelle domande. Sì, grazie. Mi scusi Presidente, non voglio abusare e non voglio neanche, so che ci sono persone che attendono, però innanzitutto faccio notare che, per esempio, non so gli altri colleghi in cui mi rivolgo con il massimo rispetto, ma io è la prima volta che sento parlare di questo metodo o di questa istituzione, non ho capito se è un metodo o una istituzione, che se non capisco male corrisponde a quello che nella letteratura scientifica, per esempio, del mio campo, in economia, effettuerebbe delle meta-analisi, cioè delle analisi di analisi per sintetizzarne. Ora vede però, dottore, mi scusi se glielo faccio notare, ma lei ha insistito sul come e sono assolutamente con lei sull'esigenza di un metodo rigoroso. Magari, forse, non è il posto più adatto per fare telefonate, ma sì. Insisterei però anche sul chi, perché il chi espone a un tema, cioè ci potrebbe essere un tema di cattura del regolatore nella sviluppo di questo processo, quello è un tema specifico della mia materia, della politica economica, la cattura del regolatore. In medicina c'è anche una letteratura sulla cattura del regolatore, basta pensare a come sono cambiati gli erontamenti in ordine, per esempio, al tema degli zuccheri rispetto ai grassi nell'insongerzia di malattie cardiache, lì si è saputo che sono circolati i soldi per rientrare la ricerca in un modo o in un altro. Quindi queste domande non sono del tutto oziose, cioè a noi interessa anche capire quali sono gli anelli che portano a determinare una certa cosa come evidenza, perché dobbiamo avere poi la certezza che le istituzioni, le persone che partecipano a questo processo siano trasparenti e non siano soggette a conflitti di interesse. Non so se sono stato chiaro con la mia domanda. Assolutamente, è centrato uno degli elementi fondamentali sull'integrità della ricerca che è condizionato non soltanto dal metodo che può produrre distorsioni bias, ma è condizionato anche da interessi in conflitto, che non è detto che siano solo commerciali, perché possono essere anche ideologici, possono essere politici, possono essere di altra natura, tanto che genericamente stanno sotto una denominazione che si chiama il bias del cappello bianco, voglio dire che spesso ciascuno di noi è portato a leggere o a valutare determinate cose secondo le proprie aspettative. Quello che è fondamentale è che in questi anni il movimento dell'Evidence Based Medicine ha portato avanti e che poi io li ho citato il metodo GRADE, ma poi ci sono altre istituzioni, la Cochrane Collaboration e altri, è quello di rendere esplicito un metodo e utilizzarlo ogni volta che si effettua un processo di ricerca, selezione e sintesi delle evidenze, tanto che esistono anche degli strumenti oggettivi per valutare se questo tipo di attività viene fatta in maniera adeguata, cioè la valutazione critica non solo degli studi primari, quindi della ricerca sui pazienti, ma anche degli studi secondari, quelli che le vanno a sintetizzare. Quindi da questo punto di vista, oggi con aggiustamenti continui, anche sul metodo, provando anche a introdurre degli elementi, chiamiamolo di dubbio, ragionevole per gli studi sponsorizzati rispetto a quelli non sponsorizzati e quindi sui potenziali conflitti di interesse, sono di fatto tutti presi in considerazione queste dimensioni attraverso in particolare il metodo GRADE che le ho citato, ma sarò ben felice di fornirle tutta la documentazione se vuole approfondire la questione. Sì, grazie, ritengo che sarebbe opportuno approfondirla. Un altro punto, mi perdoni Presidente, io rimasi molto colpito il 23 luglio del 2020 quando il dottor Lopalco, che è un epidemiologo, formulò un'ipotesi, quella che diciamo la pandemia si sarebbe comportata, avrebbe avuto un esito analogo a quello che aveva avuto all'inizio del secolo precedente, la cosiddetta spagnola. In effetti lei ci ha ricordato, poc'anzi, che la seconda e la terza ondata sono state più violente della prima e questo corrisponde esattamente alla curva che noi vediamo su un qualsiasi manuale dei casi della spagnola. Resta il fatto però che a agosto, il 27 agosto del, sempre del 2020, Gimbe pubblicava un rapporto i cui risultati venivano così sintetizzati da lei in un'intervista a Repubblica, cioè se è legittimo chiedersi se i numeri attuali sono i segnali di una nuova andata, è ragionevolmente certo che non rivedremo le drammatiche scene di marzo-aprile perché oggi la situazione epidemiologica è attentamente monitorata. Questa era la sua valutazione ad agosto del 2020 senza nessuna malizia e senza nessun intento aggressivo. Siamo d'accordo che invece però poi non è andata così e che invece le cose sono andate peggio? Assolutamente sì, quella era la prima dichiarazione quando noi abbiamo visto, guarda, ce la troviamo proprio là, l'inversione della curva che dopo la parte diciamo di calma estiva noi abbiamo segnalato questo. È ovvio che quel tipo di dichiarazione sottendeva il fatto che da un lato voglio dire nessuno poteva immaginare quale poteva essere l'impatto della seconda ondata che nel frattempo ha avuto anche un cambio praticamente di virus, voglio dire che il ceppo di Wuhan fu sostituito dalla variante alfa che era molto molto più contagiosa in primis. In secondis, voglio dire, sempre senza malizia si alleva a prendere le dichiarazioni delle settimane successive quando noi vedevamo che la curva continuava a salire e si stava sostanzialmente fermi ma questo spero che possa essere, diciamo, oggetto di una seconda puntata per chiacchiare insieme di questo. Noi invece eravamo assolutamente prone, sollecitavamo le istituzioni a prendere dei provvedimenti, tanto che il primo DPCM poi arrivò, mi pare, a fine settembre quando già c'erano svariate decine di migliaia di case perché eravamo di fronte a una variante già molto più contagiosa di quella di prima. È ovvio che ad agosto, voglio dire, non mi sembrava il caso di terrorizzare le persone. Ultimo, sì, premesso che comunque non è diciamo una chiacchierata ma è un tentativo di approfondimento e di ricostruzione di una verità perché se c'era qualcuno che a luglio di quell'anno poteva prefigurare con una relativa esattezza avendo competenze specifiche appartenendo al settore scientifico disciplinare specifico quale poi sarebbe stata l'evoluzione e azzeccandoci, insomma, io capisco la volontà di non terrorizzare, noi siamo stati primi a esortare una certa continenza nella comunicazione, però insomma le valutazioni poi alla prova dei fatti o sono giuste o sono sbagliate. A questo proposito, senza voler riaprire il capitolo delle cose di cui si debba occupare questa commissione, lei ha avuto delle parole, insomma, di censura verso il comportamento di alcune amministrazioni regionali, diciamo attribuendo loro dei comportamenti fra virgolette opportunistici per esempio nella somministrazione o non somministrazione di tamponi in base al desiderio o non desiderio di riaprire e non aprire zone di vario colore. Io mi ricordo che il 4 febbraio del 2020 il governo nazionale respinse la richiesta dei presidenti delle regioni di mettere in quarantena chi tornava dalla Cina, ci furono anche degli slogan, diciamo, che esortavano la fraternità fra i popoli abbracciando un cinese, eccetera, eccetera. Retrospettivamente o, se possibile, prospettivamente, a lei sembra che questo atteggiamento così lassista fosse giustificato o no? Perché di questo stiamo parlando in questa fase dell'indagine. Cioè, bisognava abbracciare i cinesi o bisognava quarantenarli? E la Fondazione Gimbi all'epoca che cosa disse? Perché non lo ricordo. Noi non dissimo nulla perché, come ho riportato nella parte iniziale della mia audizione, quando il 20 febbraio io andai a fare l'audizione, diciamo, nella task force, allora non c'era il CTS, c'era la task force coronavirus, il numero dei casi in Europa al 20 febbraio erano 46, quindi, diciamo, non c'era nemmeno la lontana ipotesi che il virus fosse già arrivato in Europa. Quindi in quel momento qualunque tipo di comportamento era dettato da quelle che potevano essere semplicemente delle valutazioni soggettive, che inevitabilmente in quel momento storico portavano a pensare che in Europa il virus non ci stava. Mentre poi, sempre retrospettivamente, andando a guardare una serie di articoli che riguardavano strane polmoniti, in particolare nell'Odigiano piuttosto che in Piemonte, addirittura a fine del 2019, ma col senno di poi, voglio dire, è ovvio che il senno di poi sono piene le fosse. Il problema è che in quel momento storico da un lato c'era il desiderio che non arrivasse la pandemia da noi, dall'altro realisticamente non c'era nulla, tanto che, come ho riportato proprio all'inizio della mia presentazione, dei 46 casi di Europa quasi tutti avevano dei recenti viaggi in Cina, quindi si era in qualche maniera diffusa l'ipotesi e l'idea che di fatto diciamo soltanto dalla Cina potesse arrivare, quindi anche tutte le ipotesi di chiusura dei voli, piuttosto che di stare lontano dai cinesi, piuttosto che di fare i tamponi soltanto a chi veniva dalla Cina, faceva parte di quel periodo storico. Il problema è che poi la bomba atomica era già innescata ed esplose nel giro di pochi giorni, a partire dal 21-21. Quindi oggi valutare quelli che possono essere i comportamenti individuali, sia di tipo relazionale sia di tipo comunicativo, è veramente molto molto difficile. Io allora ricordo che noi fecevamo un comunicato a inizio diciamo di febbraio, dove scrissi che era il caso che le istituzioni facessero chiarezza, che da un lato tranquillizzassero, ma che dall'altro mantenessero diciamo un adeguato livello di monitoraggio e di allerta. Ma le posso assicurare che dal punto di vista del monitoraggio c'era ben poco da fare, perché noi passiamo da casi zero registrati a casi mille nel giro di pochissimo tempo, quasi tutti gravi che andarono a riempire gli ospedali. C'è una situazione molto molto difficile, diciamo, anche da ipotizzare. Perfetto. Sì, scusi Presidente, mi perdoni. No, davvero perché se no sono in difficoltà con gli altri ubi. Mi perdoni, non voglio metterli in difficoltà. D'altra parte, però mi perdoni, capisco tutto, però c'è una cosa che siccome qui vogliamo ragionare pro futuro, non vogliamo fare... La domanda è pro futuro, nel senso che, mi perdoni, a me sembra che in un contesto pandemico, siccome ci ritroveremo, la storia, diciamo, non finisce con noi, magari i nostri figli si ritroveranno in circostanze simili, mi sembra di poter sostenere che l'isolamento di persone che provengono da un'area del globo in cui si sa che è esplosa una pandemia, ha più senso rispetto, che ne so, a tappare in casa persone che stanno in un'area in cui la pandemia magari non è ancora esplosa. Cioè, non so se... Dopo abbiamo chiesto il lockdown, potevamo chiedere prima la quarantena, aveva una razionalità secondo le evidenze o secondo le pubblicazioni? Perché secondo la storia ce l'ha, perché si è sempre fatto così e tutto sommato, se siamo ancora qui, forse anche per quello. Non so se chi era la domanda... Ha già risposto, ha detto che con le conoscenze di allora era giustificabile il fatto che si potesse... Ma rispondo nel merito, perché nell'articolo che ho riportato qua, la quarantena da sola, diciamo, è sufficiente soltanto quando ci si trova di fronte a virus che hanno una capacità di replicazione molto bassa. In alternativa bisogna cominciare ad aggiungere una serie di interventi di limitazione dei contatti umani per ridurre la circolazione del virus. Quando noi siamo arrivati, praticamente, quando è arrivato il Covid, noi avevamo un RT che stava intorno a 2-3, quindi voglio dire, eravamo già oltre la possibilità di poter utilizzare soltanto la quarantena. Quindi la richiesta dei governatori che chiedevano la quarantena era fondata o infondata? Era insufficiente. Era insufficiente, ma fondata. Non avrebbe funzionato, anche perché il virus era già ampiamente diffuso nella popolazione italiana, come documentano oggettivamente le polmonite anomale che molti non si spiegavano e che erano già emersi a partire addirittura dalla fine di dicembre 2019 e anche metà gennaio del 2020, in particolare nelle zone che sono state più colpite. Molti dei medici deceduti erano andati a curare a casa questi pazienti con polmonite anomale.